E' finito il weekend e sono rientrati tutti a casa, si sono divertiti tantissimo, era il compleanno di Santiago. Buon dia Satoso, non riesco a uscire dal mod Disney, bellissimo, veramente bellissimo, è stato meraviglioso, uno dei compiliani come abbiamo detto ieri con santi più belli, abbiamo fatto tanti di belli, però questo qua devo dire che è stato meraviglioso perché lui è andato tante volte quindi ci diceva andiamo di qua, andiamo di là, poi coraggioso, abbiamo visto un bambino così tanto coraggioso, veramente tutte le giostre, Io e lui, bah, bah, uuh Buon dia Satoso Santiago ha passato un bel compleanno ma anche Luna si è divertita tantissimo